Benvenuti alla prima videoguida PCT Facile sul processo civile telematico. Nell'accostamento avvocato tecnologico si nasconde uno simore apparente. Da una parte l'aggettivo tecnologico che richiama il mondo delle tecnologie informatiche, dall'altra il sostantivo avvocato legato al mondo analogico dei codici di rito, delle carte bollate, delle toghe nelle aule di udienza polverose e delle lunghe attese in cancelleria per depositare. Fino a ieri l'accostamento di queste due parole era impossibile. Dal 30 giugno invece è legge e entrerà in vigore il processo civile telematico. Da una consorte tecnologica l'avvocato potrà collegarsi con tutti i tribunali d'Italia, visionare il fascicolo digitale, costituirsi, pagare marche e contributi unificati, effettuare notifiche e riceverle nel domicilio digitale. Il tutto in comodità seduto nel suo studio. Impensabile fino a pochi mesi fa, in una realtà in cui la parola digitale era intesa come una res da toccare con le dita, come ai tempi di Cicerone, e non una manciata di bit impigliati nella rete nella sua accezione moderna inglese. Perché queste videoguide? Per fornire agli operatori del diritto consigli pratici sul mondo dell'informatica e più in dettaglio sul processo civile telematico. Sta cambiando una realtà che prima sembrava immutata nei secoli. Oggi l'operatore del diritto deve dotarsi di strumenti tecnologici e acquisire quelle cognizioni tecniche necessarie per affrontare con sicurezza il processo civile telematico. Il PCT è un'opportunità per la professione forense, è innovazione per gli uffici giudiziari, è un nuovo modo di concepire il processo civile, le sue dinamiche relazionali e le connesse modalità lavorative. In un momento in cui gli studi legali vivono un cambiamento epocale, dove il cartaceo si trasforma in digitale e sempre più gli apparati informatici acquisiscono un ruolo determinante nella professione forense, il PCT facile si propone come un aggregatore di idee.